Buongiorno Silvia Stilli, io le chiedo, ti chiedo di presentarti. Sì, diamoci del tu, ovviamente il CESPI è sempre un riferimento importante nel dialogo con le organizzazioni e la società civile, lo è sempre stato. Negli ultimi periodi, se vogliamo di più, c'è una maggiore relazione, attenzione, un ottimo lavoro del CESPI su far emergere i temi principali della coerenza alle politiche, per esempio migrazione e cooperazione. Allora, io sono la portavoce della OI, la OI una volta era l'Associazione delle ONG italiane, dal 2015, quest'anno è nata nel 2001, la OI, dal 2015 è l'Associazione delle Organizzazioni di Solidarietà e Cooperazione Volontariato Internazionale, in quanto nella propria constituenza non ci sono solo le originarie ONG, ma al proprio interno ci sono più soggetti. Le stesse originarie ONG oggi non si occupano in maniera specifica tutte di aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo, c'è il tema dell'accoglienza, del supporto, diciamo, all'integrazione e all'inclusione dei migranti o dei richiedenti asilo, di tutte le realtà in accoglienza. Si occupano anche di commercio eco e solidale, poi c'è la specificità collegata al fair trade che aderisce alla OI, c'è anche tutta quell'esperienza diffusa di realtà più piccole, se vogliamo, ma che impegnano le proprie comunità, comunità religiose o comunità territoriali o comunità di altro genere nel sostegno a distanza. Quindi questo siamo noi oggi, abbiamo le grandi federazioni all'interno, storiche, per esempio la FOXIV, così come abbiamo organizzazioni, o il CIPSI, abbiamo invece organizzazioni come Oxfam, Terre des Hommes ed altre che sono organizzazioni internazionali, così come abbiamo, l'ho detto, le altre federazioni in realtà. In realtà arriviamo a ben 600-700 soggetti, considerando chi poi aderisce o come si articolano le federazioni, tant'è che ci, secondo il codice del terzo settore, in base a quello abbiamo deciso di avviare il percorso che speriamo di concludere entro la primavera del 2022 e diventare una rete nazionale di terzo settore. Grazie. Allora, io ti chiederei di dirci, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, qual è una ragione o più ragioni fondamentale per giustificare, nel mondo in cui ci troviamo oggi, l'importanza della politica di cooperazione allo sviluppo? Una che può sembrare paradossale è proprio la vicenda della pandemia. Perché dico paradossale? Perché evidentemente la pandemia ha fatto emergere nel nostro paese l'esigenza e il bisogno di avere fondi di investimento nel nostro paese, fondi di sostegno sociale, sostegno lavorativo, sostegno a tutte le misure, ovviamente per affrontare dalla resilienza alla ripresa. Perché dico paradossale? Perché in verità ci ha catapultati dentro una dimensione di insicurezza globale, quella che viene appunto dalle malattie, che viene dai virus, ma che viene dal trovarsi in una condizione di esclusione sociale o anche di povertà, rapidamente dall'oggi al domani. Allora questo ovviamente ci fa capire, come dice Francesco, che bisogna, come dire, pensarsi fratelli e sorelle tutti, quindi lavorare insieme in una dimensione che sia di sviluppo sostenibile e che comporti quindi un diverso processo verso un mondo più sostenibile e anche più giusto. E in questo contesto ovviamente ci sta il tema delle crisi climatiche. Oggi ho avuto l'audizione parlamentare in relazione al documento di programmazione e indirizzo triennale della cooperazione allo sviluppo. Le crisi climatiche, anche da alcuni interventi parlamentari, figurano come un tema importante per la cooperazione allo sviluppo, visto come non è andato bene né il G20 né la coppa appena chiusa a Glasgow. Allora quindi il tema investire nella cooperazione e investire per là e per qua. Investire nella cooperazione significa affrontare il tema delle migrazioni non regolari e delle migrazioni non sicure. Non significa negare il valore e la libertà di poter migrare. Ci mancherebbe altro? Assolutamente no. E noi organizzazioni della società civile sappiamo bene come la difendiamo. Ma una cosa è una scelta, una cosa è un obbligo. E soprattutto significa comprendere che per affrontare il tema delle migrazioni, evitare morti in mare o per terra e le vicende, come dire, pesanti che stanno ora nel nostro oeste dell'Europa, tutto il tema Polonia, Bosnia e Zegovina e riguardo la rotta balcanica, ma anche evitare le migrazioni interne all'Africa che poi portano ai conflitti che vengono dalle crisi climatiche ma che vengono utilizzate anche da chi vuole i conflitti nel paese. Allora, in tutto questo è evidente la Siria, quello che succede nel contesto di crisi in Siria, di nuovo in Etiopia, ma anche, come dire, le situazioni che ci troviamo ad affrontare in America Latina. Investire nello sviluppo significa investire per il futuro del pianeta. Semplicemente questo è il primo punto e la pandemia ce l'ha dimostrato. Il tema della cooperazione allo sviluppo è anche un tema di politica estera, di peso nella politica estera dell'Italia. Un peso che è importante, avere un valore e contare in politica estera sappiamo che è determinante. La Francia non ha mai mollato quella presa. Chiunque sia stato, come dire, al governo presidente della Francia, e non lo fa nemmeno ora perché vediamo che anche Macron è molto attento, come dire, a non perdere il suo presidio Niger, a non perdere altri tipi di presidio. E lo fa anche attraverso la cooperazione. L'ADF, che è l'Agenzia du développement francese, è ovviamente molto attiva, ha usato, utilizzato la pandemia, l'impegno immediato di fondi nelle aree di interesse e sui temi di interesse in stretto raccordo subito con le organizzazioni non governative presenti francesi in quelle aree per riaffermare una presenza francese. E come dire, loro scelgono di farlo anche con una presenza militare. Noi non siamo d'accordo. L'Afghanistan, per esempio, è un altro degli elementi determinanti, magari lo affrontiamo dopo, se vogliamo, la crisi afghana che ci dimostra perché bisogna investire bene nella cooperazione allo sviluppo. Perché una presenza di vent'anni militare in Afghanistan non ha risolto il problema della corruzione all'interno del paese, della presenza del terrorismo e dei talebani che hanno avuto da parte loro il consenso nelle aree più periferiche dove cooperazione non si è fatta. Perché ci si è concentrati nelle città, ci si è concentrati nell'investire da forzando l'esercito e quant'altro che sappiamo. Questi sono alcuni degli elementi. E anche perché la cooperazione allo sviluppo, nell'interscambio tra i soggetti che la praticano, che siano le organizzazioni non governative, che siano start-up, imprese, realtà che promuovono, per esempio, innovazione tecnologica collegata alle energie rinnovabili e alla loro applicazione, che sia il tema determinante dell'agroecologia e dell'economia circolare che riaffrontiamo anche nei nostri paesi, ma che è determinante là, permette uno scambio di buone pratiche che costruisce un futuro anche per noi, un futuro più sostenibile e oltre la resilienza per il rilancio. Grazie. Una seconda domanda che io vorrei porti è se ci sono secondo te in questo quadro, quindi con questa idea di focalizzarsi su queste buone ragioni, su questi settori, su questi ambiti che in qualche modo riguardano tutto il mondo, non più solo il sud, come si diceva. Quali sono degli elementi nuovi che andrebbero introdotti nella politica italiana di cooperazione del prossimo futuro? Come, perché? Più di uno, probabilmente. Uno di questi parte appunto dal rimettere insieme con una buona legge, una legge che ha dei correttivi, che devono essere fatti alla 125 il 2014, ma è una buona legge, quindi è una buona partenza, un buono strumento, che ha anche un buon quadro, che ha identificato bene delle priorità. Per esempio, l'articolo 1 dice diritti umani, aiuto umanitario, cooperazione allo sviluppo e pace. Allora, un tema centrale è questo, l'esperienza dell'Afghanistan, ma anche l'esperienza, come dire, che noi critichiamo molto del rapporto con la Libia e tutto quello che emerge e che viene riaffermato nei trattati con la Libia, che lo si vuole addirittura portare alla Tunisia, ma che mi pare anche chi li ha più difesi in questo momento post-Afghanistan ci stia ragionando a livello politico nel nostro paese, individuano una strada che è quella che va oltre la presenza militare e che va oltre le missioni, che siano missioni militari in aree di crisi. Questo, l'esperienza dell'Afghanistan, comporta il fatto che c'è una maggiore attenzione, in audizione, l'ho visto oggi, al nostro ruolo, alla nostra presenza nelle realtà e tra le comunità, nelle aree di crisi e conflitto che non molliamo mai, anche laddove non c'è un impegno finanziario dell'Italia, ma un sostegno delle organizzazioni delle Nazioni Unite e altro, che ci permetta di superare l'idea che la pace si afferma attraverso la presenza militare. Questo è un elemento di attenzione in questo momento dal Parlamento, vista la situazione afghana. Elementi di novità importanti della 125? Uno è la questione della cooperazione di sistema. E in Italia lo si sta sperimentando, ma siamo ancora, come dire, agli albori, alle origini. Se gli attori sono plurimi, e gli attori sono le autorità locali, gli attori sono all'interno del mondo delle organizzazioni non governative, la novità delle diaspore, e l'abbiamo anche vista insieme, no? Con i Cespi, seguendo il loro processo, il loro percorso. E c'è un privato, ma non è un privato classico. Io vedo fatica nelle, come dire, nelle aziende e nelle imprese più classiche a entrare in gioco. Perché? Perché il rischio di andare in paesi vulnerabili e al rischio lo sentono. Mentre invece alcune imprese più piccole, più innovative, più start-upiane, come le chiamo io, cercano un rapporto con gli ESC, per esempio, ma anche con le loro enti locali, per poter investire, provare, trovare meccanismi per costruire insieme le relazioni. C'è una cassa depositi e plestiti, che è una quasi banca di sviluppo, ancora alcuni correttivi, ma c'è, lavora sul matching, blending, lo sappiamo. Quindi queste sono tutte strade nuove, strade che si sono aperte, che stiamo sperimentando, su cui stiamo lavorando. Non ultima quella del dialogo tra il bilaterale e il multilaterale. Da sempre c'è questo tema nell'APS, nell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano, come dire, del contrasto, soprattutto tra le OSC, no, le ONG, e il mondo delle agenzie nazionali uniti. Ma date tutti i fondi alle agenzie nazionali uniti, ingaggiate meno noi nell'emergenza, per esempio, ma anche nelle attività agricole e di altri processi di sviluppo agricolo e altri processi. Beh, questo elemento, in qualche modo, lo stiamo affrontando, finalmente, dopo anni, proprio con il tavolo di coordinamento afghanista. Perché? Perché lì, abbiamo detto con chiarezza, le agenzie UNHCR, OMS, WHO hanno detto scusate, quali sono le realtà attive nel paese con cui possiamo operare, visto che abbiamo un meno personale? Allora, si è aperto un dialogo. Finalmente si può riparlare di rileggere il multilì, riattivare un ragionamento che 30 anni fa, con 20 anni fa, con la Bosnia e altre realtà avevamo attivato. E chiudo su una grande occasione. Allora, questa non è un'occasione della cooperazione internazionale, è un'occasione del paese. Quello del tema della sentenza della Corte Costituzionale dell'agosto di due anni fa, in relazione alla coprogrammazione e coprogettazione tra il mondo delle istituzioni, quindi il pubblico, e il mondo del terzo settore, sul quale si sta rileggendo tutto il meccanismo degli appalti, dei bandi, e si sta finalmente ragionando, poiché ha dignità la sussidiarità di sedere al tavolo a pari livello a discutere col pubblico su come gestire i fondi pubblici per il bene comune, allora anche la cooperazione internazionale sta in questa logica, l'abbiamo ribadito in audizione. Coprogrammare, costruire insieme e insieme coprogettare, che non vuol dire, la coprogettazione parte da un bando, dopo che è nato un tavolo di coprogrammazione, però non è il bando, l'appalto classico dei tantissimi progettini, no, si vuole mettere i soggetti a un tavolo e lavorarci insieme. Chiudo su questo dicendo che l'ultima esperienza dell'avviso per un tavolo di coprogettazione della Fondazione con i Bambini, per il programma con i Bambini Afghanistan, vi invito ad andare nel sito a vedere, ha permesso questo, che io sappia ci sono centinaia di adesioni all'avviso di realtà differenti, per sedersi al tavolo, in questo caso non c'è il pubblico completamente, perché la Fondazione con i Bambini ha anche una partecipazione pubblica, ma è un soggetto, un ente privato, è un ente privato che l'ha lanciata, che chiama al tavolo più soggetti, quelli che saranno selezionati, a costruire un percorso di coprogettazione. Questa è la sfida. Condividere, coprogettare, questo in primis, la legge prevede che sia un ragionamento tra il mondo del terzo settore, l'istituzione del mondo del terzo settore, ma che si allarga ai partenariati degli altri soggetti citati. Grazie, quindi diciamo un'innovazione, anche un po' di approccio e di metodologia. Assolutamente, che permette anche di aggiornare e rivedere la strategia complessiva se il dialogo è comune. Gli strumenti ci sono, noi lo ribadiamo, sappiamo che attualmente la viceministra è intervenuta all'assemblea di rinnovo della governance del foro del terzo settore di ottobre, di fine ottobre, e l'ha detto con chiarezza. Va davanti la viceministra Sereni alla cooperazione internazionale, va davanti il suo interlocutore, che annuiva ovviamente che era il ministro Orlando, che è come dire alla titolarità di ragionamento col terzo settore con questi temi. Lei l'ha detto, superiamo l'idea del progetto e del bando per infiniti progetti e ragioniamo in termini di coprogrammazione e coprogettazione. Non sarà facile, ma il cammino si è avviato, il tavolo di coordinamento Afghanistan ha messo degli elementi in campo e secondo me questo è l'elemento fortemente innovativo e è quell'elemento che ti aiuta anche a cambiare, come dire, l'approccio su più di un tema della coerenza, quello delle migrazioni e di come affrontarlo, quello del peace building, del peace keeping, delle azioni, come dire, all'estero del sistema Italia per affermare la pace e affrontare il tema dei conflitti. Grazie, sì, sì, anche dal punto di vista, come dire, degli operatori c'è proprio un po' una stanchezza ad essere solo nei progetti che poi finiscono, che hanno delle rigidità che a volte non riescono ad adeguarsi anche al tempo che cambia, mentre nella coprogettazione questo è possibile, proprio perché... Sì, assolutamente. E questo è importante. Senti, un'ultimissima domanda. Secondo te ci sono delle cose che possono essere recuperate da approcci della cooperazione italiana più recente o cose anche del passato che sono magari state anche un po' dimenticate, cose che hanno funzionato e che sarebbe anche bello poter di sotterrare, rifar rivivere. Sì, se vuoi le ho anche già accennate. Io non sono una nostalgica, ma il modello, diciamo, della solidarietà, dell'aiuto e poi della cooperazione degli anni novanta sulla Bosnia e Zegovina e sulla crisi balcanica, scusa, guerra ex Jugoslavia, crisi balcani, arrivata fino al Kosovo, ma affrontato anche l'Albania, era indubbiamente un laboratorio importante. Da lì sono emersi i primi punti di condivisione e coprogrammazione. C'era un tavolo di coordinamento complessivo sulla crisi balcanica che era presso la presidenza del Consiglio e che aveva un coordinatore, come dire, che Mauro, purtroppo appunto, Mauro Valenti, che tutti ricordiamo che è stato importantissimo perché ha messo insieme le autorità locali, appunto, la difesa, utilizzavamo i camion della difesa in Italia per andare a raccogliere materiali, avevamo l'autorità portuale di Ancona che aveva messo a disposizione il magazzino, avevamo le navi che andavano verso la Croazia, prima le navi militari, poi si riattivarono anche quelle commerciali dal porto di Ancona che portavano noi gli aiuti in ex Jugoslavia, avevamo una cooperazione italiana presente a Spalato che organizzava il lavoro, avevamo dei privati che ci regalavano coperte, riso, aiuti alimentari, avevamo le asle che mettevano a disposizione anche medicine, kit sanitario, ogni genere, poi riuscimo ad avere, al momento in cui si andava verso la fine della guerra, verso la pacificazione, i primi programmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'UNHCR, che nei campi faceva intervenire le organizzazioni della società civile, ci furono il sistema educativo in Italia, la prima accoglienza non c'era manco una legge realmente sull'asilo e l'accoglienza, quindi le sperimentazioni dell'accoglienza, i simili spray o cipra o sprar, scusate, sprar o cipra dei paesi italiani in accoglienza delle famiglie venute dalla Bosnia, un'esperienza importante, l'esperienza in Kosovo, con caratteristiche differenti, Kosovo-Albania, la ricostruzione, diciamo, sociale e civile in Albania, che vide tavoli di coordinamento che, e questa era un'esperienza importante, mettevano insieme più ministeri e più soggetti. Allora, quell'esperienza lì è un'esperienza tutta italiana, tutta italiana. Non tanti soldi, tanto lavoro, tante energie, tante risorse messe da tutti, un dialogo eccezionale con riconoscimento di autorevolezza all'Italia da parte delle agenzie delle Nazioni Unite, a livello internazionale, la prima conferenza alla ricostruzione, speciale a Ancona. Quindi questo coniuga il ragionamento fatto su a cosa serve la cooperazione e l'aiuto umanitario. Più recentemente, più recentemente, il lavoro ancora bozzato sul tema, deve evolversi con delle linee guida, come dire, forti, che siano ovviamente già elaborate, che siano approvate e che siano applicate sul tema migrazione e sviluppo. L'Italia lo può fare, lo può fare bene, lo può fare grazie all'elemento delle diaspora, l'elemento di chi si occupa di cooperazione internazionale e accoglienza insieme e lo può fare dando un'indicazione di coerenza alle politiche tra il Ministero degli Interni e il Ministero. Ovviamente della cooperazione allo sviluppo, il Ministero del Lavoro con i ricongiugimenti familiari e tanti interventi. E ovviamente l'elemento innovazione è quello di avere una legge che nell'articolo 26 che viene aggiornato e rivisto prevede che i soggetti della società civile non sono le ONG, tra virgolette, di mestiere, ma hanno al loro interno un mondo della cooperazione sociale, non profit, mondo della cooperazione sociale, il mondo delle altre organizzazioni nella società civile, il mondo delle fondazioni. E quindi tutto, questi sono elementi innovativi importanti che vanno, come dire, a incidere sul sistema, a valorizzare un sistema che quello che ho descritto della Bosnia-Herzegovina è molto importante. Io fossi anche nel Cespi e nei soggetti di ricerca, metterei molto l'osservazione su questo tavolo afghanista che non si chiuderà perché l'emergenza non sia nemmeno chiusa, si protrae, c'è l'esperienza particolare dei corridoi umanitari, un po' diversa da come fino ad ora si è vista, quella che porteranno alcuni soggetti al prossimo tavolo che è domani sotto tavolo sull'aiuto umanitario della sponsorship, quindi del ruolo anche del privato che vuole intervenire nella solidarietà. Mi sembrano tutti elementi innovativi e quindi per una volta, oltre che critica, voglio essere più propositiva e positiva. Grazie Silvia. Grazie. Grazie davvero. È molto sia l'excursus più storico che questa attenzione all'oggi è molto interessante. Rispetto alla Bosnia, io mi ricordo che fu proprio in quegli anni che, grazie forse anche a tutta questa dinamica, questo processo che fu messo in piedi, ma che rispondeva evidentemente a una richiesta anche dal basso dei territori, fu in quegli anni, furono quegli anni in cui la cooperazione decentrata ebbe, diciamo, esplode, no? Diventa... E quella esperienza... Era partita dai gemellaggi, no? Esatto. C'erano, diciamo... Però lì diventa una realtà che dove in alcuni contesti molto, diciamo, molto vivaci anche territorialmente, poi ha mantenuto, non con quelle stesse magari dimensioni, impegno, però comunque sì, nasceva proprio da lì. E quindi hai ragione a dire state attenti a questo osservatorio del tavolo Afghanistan per capire che cosa nasce da lì. Mi viene con una battuta, mi viene a dire, ci sarà anche Gino Strada il cui spirito alleggerà perché... Beh, emergenzia nel tavolo, ovviamente. Sì, immagino. No, ma per dire che... Quando tu hai iniziato proprio dicendo la pace, dicevo, beh, la pace che sembra proprio un tema, no? Vecchio... Era, diciamo, il pallino in questo caso di Gino. Va bene. Senti, grazie mille, grazie per la disponibilità e ci siamo rincorse, ma alla fine ci siamo trovate. Vai, sentiamoci comunque. A presto, davvero. Un piacere. Ciao, riprenditi con la tua mano. Sì. Ciao, ciao, ciao.